A Federico, una partita uno scontro al vertice in questo recupero, questa volta al contrario dell'ultima sospesa il golfo si presentava al completo ma siete riusciti comunque a vincerla? Sicuramente è stata una partita bellissima, non tanto tecnicamente quanto sotto il livello agonistico, loro sono un'ottima squadra, siamo riusciti a prenderci questi tre punti che sono fondamentali per il perseguire del campionato. Abbiamo un segnale forte, non abbiamo ancora vinto niente perché comunque mancano cinque partite e sappiamo che dobbiamo ancora remare tanto per arrivare all'obiettivo finale. In assenza del mister prova a farti uno veci, il golfo paradiso pressava tanto, abbiamo messo in difficoltà nel primo tempo quindi bravi soprattutto a tutti voi, soprattutto anche i giovani a crederci fino alla fine e non mollare. Sicuramente loro sono una squadra organizzata benissimo, ci hanno messo in difficoltà sugli esterni perché avevano giocatori di gamba, magari arrivavamo un pochettino in ritardo a raddoppiare quindi ci hanno messo più in difficoltà. Però noi siamo stati bravi perché ci siamo sempre difesi bene, abbiamo sempre raddoppiato bene e abbiamo portato a casa per questi tre punti fondamentali e meritati penso.